Ciao a tutti voi da Rosi, City Motors concessionaria Toyota, ospite della nostra trasmissione e come sempre siamo qua insieme a Massimo Mancini. Ciao Massimo. Ciao Rosi, cari amici, buonasera a tutti voi. Dobbiamo iniziare questa puntata con delle notizie non proprio fantastiche. Voi probabilmente siete al corrente di questa grande crisi che attanaglia il mondo dei microprocessori, dei processori video e che in maniera abbastanza importante colpisce anche il mondo delle automobili. Quindi avrete sentito parlare di ritardi delle consegne. Su questo punto io vi vorrei in qualche maniera abbastanza tranquillizzare perché grazie al cielo Toyota, essendo il più grande costruttore al mondo, ha parecchi stabilimenti. E riesce ancora, pur avendo un calo di produzione del 40%, però vuol dire che il 60% lo continua a produrre. Quindi noi siamo qua per dirvi, cari amici, se avete bisogno di un'auto in pronta consegna, ecco, sulle piccoline c'è qualche problema perché andiamo a finire intorno all'inizio del 2022, mentre invece sulle gambe intermedie, lasciatemi dire, la CHR, la Corolla, la RAV4, l'Highlander, insomma su queste vetture abbiamo anche del prodotto in pronta consegna. Quindi potete tranquillamente venire qua, sono tutte libere per essere provate. Adesso inizieremo a parlare della novità, diciamo, dell'anno di Toyota, che è la Yaris Cross, che ha avuto un successo pazzesco. E ne sono state vendute davvero tante, quindi è anche la macchina sulla quale abbiamo anche qualche difficoltà di consegna. Ve lo confesso, però è un piacere raccontarvelo perché vuol dire che tanti prima di voi hanno acquistato questa vettura, l'hanno prenotata, se la sono accapparrata e qualcuno la riceverà già nei prossimi giorni. Detto questo, è bene valutare che quando io vi dico che la macchina magari ve la do a generale febbraio del prossimo anno, ci sono anche dei colleghi di altri marchi che ve la danno per le vacanze del prossimo anno. C'è qualcuno che addirittura parla di ottobre, quindi, insomma, bisogna anche considerare e pensarci. Se dovete cambiare la vettura, insomma, conviene venire qua. Pensateci per tempo. Per tempo. Pensate per tempo, vi venite qua, vi diamo tutte le formule finanziarie possibili, quindi anche se al momento pensate a non avere la disponibilità, non c'è nessun problema, vi assicurate un tempo di consegna ragionevole, vi assicurate un prezzo che resta oggi e non ve lo tocca più nessuno, e quindi andiamo anche a combattere l'ipotesi di aumenti perché naturalmente quando le materie prime scarseggiano, chiaramente cosa fanno i produttori? Aumentano i prezzi. Ve ne siete accorti? Vogliamo parlare di quelli che fanno i cappotti per le abitazioni civili? Vogliamo parlare del ferro, dell'alluminio, persino mi raccontavano della farina per produrre la pasta, quindi la semola è aumentata nel 40%, quindi sono delle cose pazzesche. Ecco, dopo tutto questo grande preambolo, che ci tenevo comunque a metterci la faccia, come ho sempre fatto nella mia vita, partiamo con la prima proposta che non può che essere la nostra novità, la Yaris Cross. Andiamo. Buonasera a tutti amici, sono Amedeo della concessionaria Toyota City Motors, sono qua per parlarvi della nuova Yaris Cross, una vettura che vi è piaciuta tantissimo, siete conclusa adesso la fase di pre-booking che è terminata il 31 di settembre, abbiamo finalizzato gli ultimi contratti dei clienti... Il 30 di settembre, ragione, il 30 di settembre, finalizzato gli ultimi contratti dei clienti che l'avevano prenotato in anticipo, è terminata quindi la fase del lancio e adesso abbiamo molti ordini in sospeso e la state richiedendo in tantissimi, sta piacendo molto, disponibile nelle due, nelle quattro ruote motrici, vari allestimenti con vari accessori, parte da circa 21.650 euro nell'allestimento base fino ad arrivare ai 28 dell'allestimento top di gamma. Ecco, è bene ricordare che 21.650 sono figli di una rottamazione, di una macchina qualsiasi. Dovete avere un veicolo con più di 10 anni, intestato a voi da più di un anno, per godere dell'incentivo statale di 1.500 euro. Perfetto. Io dico invece a voi amici cari che non avete eventualmente la macchina da rottamare, che noi comunque in questo momento, facendo seguito alle parole che vi ho detto un secondo fa, abbiamo anche una buona richiesta di vetture usate, allora vi dico, se avete una macchina usata, interessante, piacevole, che voi reputate che sia una macchina buona per essere venduta a un vostro amico, portatela a noi, noi ve la valuteremo bene, come ve la valuterebbe il vostro amico e automaticamente siamo interessati a diventarne proprietari di quella macchina là. E quindi ve la valuteremo al meglio che il mercato ci possa offrire. Così vi garantite anche una valutazione per i prossimi mesi, perché no, è naturale che se io questa macchina nuova ve la consegno l'anno prossimo, voi mi ediate dentro la vostra macchina usata l'anno prossimo. E fa parte del gioco, ci mancherebbe altro. Però me la dovete tenere bene, perché se me la tenete male non andiamo d'accordo. Andiamo avanti con le versioni. Sì, allora, l'allestimento d'ingresso è l'allestimento active, è comunque un allestimento abbastanza accessoriato, nel senso che avete già i cerchi in lega, la strumentazione digitale. Potete andare su un allestimento intermedio se avete bisogno dei fari a LED, ad esempio finestrini posteriore oscurati o un cerchio più grande da 17 pollici. Quelli che stiamo vendendo di più sono gli allestimenti Adventure e Lounge, quindi parliamo delle versioni bitono con il tetto nero e la vernice metallizzata, oppure della Lounge con il tetto panoramico. Che a me piace tantissimo. È un po' più elegante la Lounge. Con il tetto in cristallo molto grande, nelle sere... Che dà molta luce all'abitacolo. Esatto, nelle giornate come queste di ottobre, con con il sole, bellissimo. Oppure la Premiere, quella che state guardando adesso, nella colorazione unica in oro. La cosa bella è che queste macchine avete, grazie al nostro sistema di pagamento WeHybrid, avete la potenzialità di pagarla con poco più di 250 euro al mese. E la cosa incredibile è che se sceglieste una versione a quattro ruote motrici, vi costerebbe 20 euro in più la rata. Quindi diciamo che avete una massima libertà nella misura in cui decideste di acquistarla col sistema WeHybrid. Perché il sistema WeHybrid è il miglior modo per acquistare la Toyota? Perché vi dà una serie di vantaggi all'interno del vostro piano di acquisto. Non solamente, ad esempio, la possibilità di avere una copertura assicurativa molto completa, inclusa all'interno del vostro piano d'acquisto. Avete un valore garantito alla fine del vostro piano d'acquisto. Per cui noi ci impegniamo a ritirare la vostra macchina a un prezzo che voi già conoscete al momento d'acquisto della vostra vettura. Se poi fate una copertura assicurativa RC, pagate solamente i chilometri che fate col motore a benzina acceso. E vuol dire che con una Yaris Cross fate circa il 50-60% della percorrenza in elettrico. Quindi pagate per la metà dei chilometri che fate, praticamente. E costa solo 0,06 centesimi a chilometro. Con anche la minicasco inclusa. Quindi avete i danni sulla vostra vettura. Se fate un sinistro con colpa, sono coperti fino a 10.000 euro. Ecco, amici cari, questa cosa non ve la dà nessuno. E questo è bene rimarcarlo e ricordarlo. Perdo 30 secondi. Se, come succede spesso, perché gli incidenti gravi, grazie a Dio, se ne fanno pochi nella vita. Però il classico tamponamento in città, oggi come oggi, se lei mi fa un tamponamento, caro amico, cara amica, va bene che le diamo la macchina con tutti i sistemi di controllo per evitare che questo accade. Ma nell'amalgolata ipotesi che mi dovesse accadere, lei mi causa un danno, pronti via l'apertura degli airbag, scoppia tutti gli airbag, che cosa? Di 5, 6, 7 mila euro. E se ha una copertura come questa qua, interviene la nostra assicurazione fino a 10.000. Se non ce l'ha, tocca mettere i soldini lei. Non è una bella situazione. Un po' il sistema di pagamento del senza pensieri. Cioè, una persona sa che una volta che ha acquistato l'auto con questo sistema, We Hybrid, praticamente sa che deve spendere i suoi 250 euro al mese ed è a posto di tutto, non ha nessun tipo di pensiero. E qualsiasi cosa dovesse accadere alla macchina ha il suo riferimento che la persona che gli ha la venduta. Non si deve preoccupare del carrozziere, non si deve preoccupare del meccanico, non si deve preoccupare dell'assicuratore, non si deve preoccupare di niente. Chiama il suo venditore, come in questo caso Amedeo, caro Amedeo, mi è successo sta roba qua. Amedeo dice, non ti preoccupare, ti veniamo a prendere la macchina, te la portiamo noi, facciamo tutto noi e tu non ti devi più preoccupare. Bene, amici cari, io direi di andare avanti con il resto della gamma. Buonasera a tutti, sono Paolo, benvenuti in City Motors. Benissimo, Yaris Cross è il nostro successo, l'unica vettura che ha il cambio automatico sul 2 e 4 ruote motrici col full hybrid. Ma non dimentichiamoci della nostra Yaris, il nostro gioiello all'auto dell'anno 2021, quella che praticamente sta facendo fare un grandissimo successo e grandissimo risalto al mondo Toyota, sempre a vostra disposizione anche per questo tipo di vettura, a partire da 17.700 euro, grazie ai contributi e all'incentivo a rottamazione statale, che per il momento è ancora disponibile. Le consegne è messe un pochettino in là, però fondamentalmente, come diceva prima Massimo, siamo praticamente ben lieti di farvele prenotare e bloccare il prezzo fino alla consegna. Tutti i sistemi di sicurezza attivi di ultima generazione sono già montati su questa vettura, dormite e sonni tranquilli. con il minimo dei consumi oggi sul mercato. Di conseguenza adesso possiamo passare anche agli altri modelli. Passo adesso la palla da Medeo. Allora, abbiamo visto la Yaris. Se avete bisogno di un po' più di spazio, la Corolla 5 porte può essere un'ottima soluzione. Sono vetture disponibili sia nella motorizzazione 1.800 che 2.000, se avete bisogno di un po' più di cavalli anche. Quindi con il 2.000 ne avete 184. e sono vetture che per un numero molto limitato abbiamo disponibili anche in pronta consegna. Quindi se avete bisogno di una macchina, urgentemente, vi sia rotta la vostra, affrettatevi perché sono 4-5 vetture che abbiamo disponibili. Altrimenti con gli ordini andiamo un po' più avanti. Partiamo circa da 22.600 euro per Corolla ed è disponibile lo stesso sistema di pagamento disponibile per gli Yaris Cross. Bello, perfetto. Io direi alla regia a questo punto di seguirmi e andiamo a parlare dei nostri SUV perché il piccolo SUV l'abbiamo visto pochi minuti fa ma non dimentichiamoci i SUV intermedi e i grandi SUV perché abbiamo il CHR che comunque potete avere con la motorizzazione 1.800 e 2.000 anche di queste ne disponiamo di alcune in pronta consegna. Abbiamo sicuramente, io credo che il CHR oramai non abbia più bisogno di essere presentato perché lo conoscono un po' tutti ed è un mezzo davvero fantastico. Abbiamo sempre i migliori consumi della categoria, sempre le migliori prestazioni e quindi io passerei direttamente a quelli un po' più ciccioni che si chiamano RAV come questo che adesso vi faccio vedere. Il RAV lo potete avere in varie versioni che adesso tu sapientemente mi elencherai. Di RAV abbiamo anche qualcosa in casa sia dall'allestimento base fino ai più accessoriati quindi dalla Active alla Style anche con tetto panoramico. dipende dalle esigenze che avete se volete gli interni in tessuto, gli interni in pelle. La motorizzazione è unica, è sempre un 2005 full hybrid quindi è una vettura che nonostante le quasi due tonnellate vi fa i 20 chilometri con un litro e li fa veramente e li fa veramente anche nella trazione integrale che di cavalli ne ha 222. Trovatevi una macchina che vi consuma uguale con un 2005 benzina. Ma anche con un 2000 turbo. Eh ma infatti tra l'altro. Per cui se vi serve un'auto per la famiglia spaziosa che consumi poco e che sia anche pronta consegna questa è sicuramente una soluzione. Allora questa vettura la potete avere a due ruote motrici o a quattro ruote motrici. Noi disponiamo di entrambe le caratteristiche. Poi la RAV la potete avere anche nella versione plug-in che è quella che in questo momento sto guidando io ed è meravigliosa. Poi c'è l'Eylander che è il più grande della categoria. Quindi non dovete far altro che venirci a trovare amici e su queste macchine qua le vedrete tutte per bene. Amici io ho bisogno anche di parlarvi del nostro Hybrid Village perché è altrettanto vero che come abbiamo detto fino adesso la carenza delle macchine e compagnia bella tanti stanno ricercando le macchine usate. Nel momento che stiamo andando in onda abbiamo una buona fornitura. Vi consiglio però di venire a vedere perché il nostro è uno dei più grandi centri in Italia. Sicuramente nel nord Italia siamo i più grandi come centro dell'usato ibrido. Quindi tutti coloro che arrivano anche da fuori provincia anche all'interno della regione troveranno sicuramente una quantità di vetture usate decisamente fuori dalla norma. Sono 8.400 metri quadrati a vostra completa disposizione di macchine usate. Io spero che quando voi vedrete questa riuscirete a trovare la vostra vettura vi aspetto con piacere anche lì da noi al Hybrid Village. Oltre al Hybrid Village abbiamo Monza e abbiamo Bellusco quindi trovate tutti gli indirizzi di sovraimpressione e vi saluto con grande affetto e grande stima e alla prossima. Ciao amici. Buona serata. Noi aspettiamo. Ciao. 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 Ciao.